Ciao a tutti ragazzi, buoni in questo nuovissimo video e oggi vi parlo delle mie letture del mese di gennaio finalmente siamo a febbraio, ne parla adesso, ma vabbè, lasciamo stare questo mese non ho letto moltissimi libri, ma ho letto dei titoli molto importanti come primo libro che vi ho già parlato in questo video nello scorso video è appunto Il trono dei ghiacci di Sara J. Maas, il primo capitolo della saga, l'ho finito, è piaciuto veramente tantissimo e parla praticamente di questa assassina di Adunderland, diciamo che si chiama in mondo così che viene presa dalle mini-rede di Endover, quindi dove lavorava come schiava viene presa dal principe per diventare la sua palladina diciamo che c'è una sorta di torneo indetto dal re, in cui chi vincerà, quindi chi sopravvivrà a questo torneo sarà il nuovo palladino del re ovviamente questo assassino dovrà uccidere degli altri esseri, delle altre persone che partecipano a questo torneo e in cambio di diventare il palladino del re, dopo un tot di tempo si avrà l'assoluta libertà appunto, quindi si sarà libero di fare quello che cazzo si fare tutti i crimini precedenti non esisteranno più e tutto questo, un'altra cosa ovviamente in questo libro di Firenze Damone, l'assassino come vi ho già parlato è presente in triangolo amoroso, abbiamo appunto Dorian che è il principe il figlio quindi del re, che si nominerà di lei ovviamente e l'altro è Cauli, capitano della guardia però nonostante tutto il libro è piaciuto veramente tantissimo è anche presente un elemento magico all'interno della storia ricorda un po' un misto tra il mondo emerso e quella degli elfi di Brennan non so se avete presente queste due saghe però è piaciuto veramente tantissimo infatti sono molto dubbiosa sulla pubblicazione del quarto e quinto volume in Italia sono stra preoccupata e quindi vedremo che cosa succederà intanto questo libro fa vedere la copertina sotto che secondo me è bellissimo è molto semplice, nero, cartonato ma il pugnale con le rose mi piace tantissimo questo che ho io è di San Mondodoro per un costo di 17 euro quindi dovrebbe essere tipo la prima edizione uscita in Italia che tutti dicono la copertina è bruttissima a me se la copertina piace poi ti metto a posto ok, passiamo al secondo libro che è un libricino piccino piccino picciò questo è un libricino che ho preso in biblioteca di Laura Mancinelli si chiama Il Treccavedere del Graal edito da Einaudi per un costo di 12.000 lire è un bel po' vecchio questo libricino ma mi è piaciuto tantissimo è molto corto mi sembra che siano tipo 89 pagine 90 pagine tratta praticamente la storia di questi tre Perceval, Gavan, Galvano, Galad e Perceval che praticamente vengono mandati a Merlino a compiere un viaggio per trovare Santo Graal nonostante sia veramente pochissimo come libro sia veramente piccino 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 mi è piaciuto veramente tanto ho trovato un po' fiabesco un po' diverso dai soliti libri di fantasy non si letti fino ad ora mi è piaciuto parecchio è una storia semplice che si legge giusto in una o due ore al massimo non lo so, mi è piaciuto parecchio quindi ve lo consiglio soprattutto se amate il mondo di Merlino e tutto quel mondo medievale che ci stava attorno anche ad Artù questo può essere un'ottima lettura poi altri due libri che vi cito sono ovviamente in ebook che brutte editate vi metterò le immagini qui mi sposto le immagini qua il primo libro di cui vi parlo è Magic di Victoria Schwab Schwab mi sembra che si pronunci non so come si pronuncia evidentemente questo personaggio comunque questa scrittrice è il primo capitolo di una saga fantasy nuova che parla di quattro Londri abbiamo la Londra sono un tipo di multiversi tutti collegati dalla stessa Londra beh in ogni mondo c'è una Londra che è l'unico punto cardine un punto in comune di tutti i quattro mondi l'onda grigia l'onda rossa l'onda nera l'onda l'ondra l'onda nera l'onda rossa l'onda grigia l'onda bianca e l'onda nera non mi ricordo precisamente l'ultimo preciso in cui rimangono queste Londri ma vabbè in questi mondi ci sono dei personaggi che si chiamano Antari che sono degli esseri che possedono la magia ma più che possedere la magia in più a possedere appunto i poteri non è la possibilità di viaggiare tra i mondi quindi seguiamo le vicende di questo Kel di questo Antari che è l'unica particolare degli Antari appunto per riconoscerli che hanno un occhio completamente nero senza pubblicare niente cioè simbolo della magia un occhio nero e Kel appunto è un Antari e seguiamo le vicende di questo Antari che è a servizio della famiglia reale della Londra rossa però intanto contrabbanda cattivello alcuni agenti provenienti da altre Londre però un giorno contrabbanda qualcosa porta da un'altra Londra qualcosa che in realtà non dovrebbe possedere ovvero una pietra nera proveniente da Londra nera Londra nera purtroppo non esiste più perché è stata massacrata diciamo è stata distrutta dopo che i abitanti di Londra nera hanno spremuto fino all'ultima goccia il potere magico con la magia e la magia si tratta contro di loro e li ha praticamente uccise tutti in realtà non si sa benissimo come tutto dopo aver fatto puff svanito scomparso però si dice che sia un mondo morto e che è appunto sigillato e che in realtà tutti gli oggetti manufatti che arrivano da Londra ne sono stati distrutti effettivamente così non è perché questa pietra appunto si trova in questa pietra però lui la porterà a compiere dei gesti e delle avventure che mi sono sì piaciute ma anche non piaciute nel senso che all'inizio sembra di poter leggere un libro che ha delle cadenze un po' gotiche un po' dark e invece poi il finale è abbastanza non mi è piaciuto molto tra l'altro troviamo un altro personaggio che è Delilah Bard si chiama Delilah comunque che è una ladruncola e che appunto andrà in contatto con Kel ovviamente possiamo intuire qualcosa in realtà dal punto di vista amoroso non è molto specificato qui si è trovato molto di fan fiction nel senso come si chiamano le ship ecco c'è molta ship dietro a questi personaggi ma in realtà nel libro non viene molto raccontata questa cosa si intuisce qualcosa nei prossimi volumi ma non si sa il volume in sé la storia in sé non mi ha particolarmente entusiasmato nel senso che il finale visto un po' troppo fertoroso secondo me poteva essere svolto anche molto più lentamente a rispetto comunque dell'inizio che invece veniva scritto tutto abbastanza bene il personaggio abbastanza bene la storia abbastanza bene e poi ho iniziato a fare tutto tutto l'antruso e quindi appunto è questo motivo per cui questo libro poteva avere una marcia in più ma invece ha avuto una marcia in meno e invece un libro di cui sono stra felicissima e quindi ve lo stra stra consiglio sto guardando l'orologio perché sono in stranità dopo la palestra comunque è la battaglia delle tre corone di Kendall Blake io appunto l'ho finito di leggere l'età l'ho finito di leggere il primo febbraio però non esiste con il libro proprio di gennaio perché comunque l'ho letto praticamente per tutto gennaio questo libro ed è un libro che ha piaciuto veramente tantissimo parla praticamente di questo regno di questa isola divisa in tre parti praticamente suddivisa in elementari naturalisti e avvelenatori e ogni volta che nasce un parto gemellare di fatto di tre ragazzi appunto perché sono sempre tre ragazzi a rare volte è capitato quattro o qualcosa di diverso ogni bambina viene affidata ad un reparto come si può dire cioè una vale allenatori una vale non terroristi e una vale elementali ovviamente alla nascita la madre sa già che quella bambina è predisposta a fare determinata cosa e ogni bambina viene cresciuta lontano dalle altre quindi stigandole all'odio verso le altre e stigando cresciuta nel mondo in punto cioè esempio la velenatrice viene avvelenata fino a bambina per poter sopportare i veleni e creare i veleni per avvelenare le persone la naturalista ovviamente è quella che è attaccata agli animali alle piante alla natura mentre l'altra l'elementale è quella che usa gli elementali appunto per fuoco terra acqua tutta sta roba qua solita e solo una di loro diventerà regina ovviamente le altre dovranno morire e prima ci sono diverse cose che si fanno poi c'è appunto il fatto che lo sbarco quindi praticamente i pretendenti conoscono le varie regine perché sono regine ma in realtà non sono regine molto e e poi sarà la battaglia finale allora questo libro penso che sia il primo di una saga perché non finisce però è piaciuto veramente tantissimo innanzitutto si tratta in tre pezzi quindi tratta tutte e tre le regine in maniera diversa praticamente abbiamo un capitolo dedicato a una poi un'altra poi un'altra però la storia non è che si spezza ma va avanti cioè voi abbiamo ad esempio il personaggio naturalista che non mi ricordo i nomi vabbè Arsinoe naturalista Katerin o Katerin la valenatrice e Mirabella elementale adesso non mi ricordo i nomi e praticamente hanno diverse cose da affrontare per poter poi diventare appunto lo sbarco e poter diventare poi regine ognuno ha dei problemi nel suo campo non c'è nessuno che è veramente potente in realtà l'unica veramente potente è Mirabella ma c'è qualcosa che non quadra diciamo lei ha dei presentimenti delle cose strane quindi qualcosa che in realtà non dovrebbe vedere il libro è sempre stato veramente tanto perché comunque non lo so ogni personaggio è descritto molto bene si capisce si intuisce la cultura che ci sta dietro le battaglie che ci sono dietro politiche non lo so è preso veramente un sacco c'è anche una sorta di storie d'amore che diciamo si concatenano e creano dei problemi anche tra le varie regine quindi è una cosa molto particolare e è piaciuta veramente tanto infatti sono molto curiosa di leggere il seguito non so quando uscirà però sono molto curiosa di leggere il seguito quindi infatti questo libro ve lo consiglio tantissimo e niente ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se voi avete letto qualcuno di questi libri ditemelo ditemi che cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao